I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, congiuntamente al Centro Anticrimine Natura e al gruppo carabinieri ispettorato del lavoro, stanno svolgendo un'ispezione a sorpresa in un'industria per la produzione di latterizi, al fine di verificarne il corretto ciclo produttivo. Continua l'attività di controllo dell'arma dei carabinieri volta a tutelare l'ambiente e gli ambienti di vita. Oggi in particolare abbiamo fatto ingresso a sorpresa presso un impianto di latterizi al fine di verificare le emissioni in atmosfera e che queste rispettino i limiti imposti dalla legge. In particolare oggi ci troviamo nel territorio del Comune di Agrigento e proseguiranno i controlli in tale ambito. Grazie per la visione!